Caro Presidente, è un granissimo onore poterla incontrare nuovamente di persona. Nel 2018 ci presentammo qui davanti a lei dopo il campionato mondiale, con una medaglia d'argento al collo, celebrata come se fosse l'oro. In quell'occasione spese parole bellissime per noi e una frase ci rimase particolarmente nel cuore. Vi ringrazio per l'esempio che offrite. Avete conseguito un traguardo che è anche più importante del colore della medaglia che si vince. Avete conquistato tanti concittadini. Le confesso che da quel giorno io e le mie compagne abbiamo fatto nostra la sua frase. In ogni competizione l'obiettivo è quello di offrire un esempio positivo per l'Italia. Lo è stato ancora di più in questa stagione, considerando il periodo difficile che il nostro Paese ha affrontato e sta ancora affrontando. Un'Italia che però sta cercando con tanta forza di rialzarsi. Lo stesso è successo anche a noi. Purtroppo i giochi olimpici non sono andati come avevamo sperato e la delusione è stata grande. In pochissimo tempo abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e tirare fuori tutta la grinta. La vittoria dell'Europeo è soprattutto il frutto della nostra voglia di reagire. Partita dopo partita, con la forza e la tenacia che contraddistinguono il popolo italiano, ci siamo rialzati e siamo arrivati a conquistare una bellissima medaglia, questa volta veramente d'oro. Non è stato facile, ma sono convinta che passare attraverso le difficoltà abbia reso la nostra squadra il migliore. Rialzarti dopo una caduta ti rende più forte. Speriamo di aver onorato al meglio la maglia azzurra e la bandiera tricolore, con la promessa che faremo del nostro meglio per regalare tanti altri successi d'Italia.